Un saluto da Ponte News. Nella mattinata di oggi, martedì 12 ottobre, è avvenuta la consegna del premio Ampi Città di Tortona. L'evento si è verificato in biblioteca Tommaso de Occheda, biblioteca civica di Tortona. Sito in via Ammiraglio Miravello 1. Servizio. Consegnato il premio Ampi Città di Tortona, nella mattinata di oggi, martedì 12 ottobre, in biblioteca civica Tommaso de Occheda. Oggi in questa sala non si era più potuto sedere come siamo qui noi in questo momento nessuno. A causa del Covid la sala è stata chiusa e non era più stato fatto nulla di quello che stiamo facendo. Un incontro che ha avuto come tema l'importanza della condivisione, del non smettere di ricordare e del tramandare ai giovani i racconti delle vicende partigiane. Lotte per la libertà costate, la vita a molti ragazzi. Alcuni di questi, probabilmente, avrebbero la stessa età degli studenti frequentanti dei superiori. Un valutino è degna di nota per quello che rappresenta questa bandiera, per i valori che ci sono dietro, per quello che hanno fatto tutti i ragazzi. Ed ecco che hanno partecipato all'evento anche gli insegnanti delle scuole tortonesi, occasione per mettere in risalto l'importanza di continuare ad offrire progetti volti a non dimenticare la storia, poiché quest'ultima è sia passato, presente che futuro. Oggi non per forza l'occupato su questa bellissima bandiera che si compriano delle domande. Sono felice per l'iniziativa relativa al concorso nelle scuole. Per questa iniziativa che è bella di Cersè, che è bella per l'anno che viene. Tra gli applausi, il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha voluto ringraziare il presidente dell'AMPI di Tortona, Marco Balossino, per la dedizione nel realizzare progetti volti ai ragazzi. Oltre al sindaco Chiodi e al presidente Balossino, erano presenti anche Pierluigi Rognoni, presidente della Fondazione CR Tortona, Ottavio e Carla Rube, il capitano Domenico Lavinia, comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona. Grazie, grazie perché la storia che per noi rappresenta un punto di partenza. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti